Modena vince ma è stata complicata, forse è più complicato del previsto? Sì, è stata complicata ma penso per tanto demerito nostro, perché abbiamo anche oggi avuto un calo di concentrazione, anche il primo set erano sopra di tanto, dopo rischi di andare a perdere subito il primo, poi lo vinci, vinci il secondo e dopo parti così e così il terzo. È stata una partita che loro hanno meritato di portare al tie-break, noi purtroppo siamo contenti per la vittoria ma non possiamo essere contenti di quello che abbiamo espresso in campo. Deve crescere in concentrazione Modena nelle prossime gare? Soprattutto ci diceva il coach, lo spogliatoio, questa partita qua era una partita difficile, dopo le feste, un po' la testa magari staccata e infatti si è dimostrata così. Se vogliamo diventare una squadra che vuole ambire ai massimi risultati non possiamo avere un livello così e quindi dobbiamo lavorare su questo e dovremmo mettercela con tutta noi stessi per far sì che questi risultati non siano come quello di oggi.